Quelle che vedete sono le due migliori versioni di sempre di Adi Chupan su un palco del Mr. Olympia nella categoria Open A sinistra abbiamo il 2021 quindi settimana scorsa, mentre a destra il 2019 e in entrambe le occasioni è arrivato terzo E in entrambe le occasioni Adi era veramente favoloso di un altro pianeta Quindi mi sono chiesto qual è la migliore versione di sempre di Adi Chupan su un palco del Mr. Olympia nella categoria Open Oggi con questo confronto vorrei un attimo un po' chiarire le mie idee Prima posa da front double bicep Le prime due cose che saltano subito all'occhio sono che nel 2021 fa il vacuum, mentre nel 2019 non lo faceva E che le sue gambe nel 2021 quindi a sinistra sono molto ma molto più piccole rispetto al 2019 Non so se abbia avuto qualche tipo di infortunio oppure se è stata una sua decisione spontanea di sua volontà Il fatto di diminuire le dimensioni delle gambe veramente non lo so, però sono veramente molto ridimensionate rispetto al 2019 In entrambe le occasioni Adi è una condizione il doppio dell'estremo Io lo preferisco nel 2021 con il vacuum perché gli assottiglia un po' di più la vita Però anche comunque il 2019 tiene buonissimo la posa Le sue gambe non so perché si siano ridimensionate di così tanto, veramente non so spiegarmelo Comunque per il resto braccia e dorsali sono più o meno le stesse a quanto pare Front last spread, tra l'altro devo dire che le foto ufficiali sul sito dell'MPC News Online del 2021 Cioè ma di tutti gli atleti fanno veramente schifo Le luci erano quello che erano, l'abbiamo viste tutti, facciamo veramente schifo Poi tra l'altro anche le foto fatte devo dire molto molto male, quasi tre quarti Erano presi con un'angolazione che non si vedeva niente Veramente secondo me tra luci, foto e anche coreografia in generale quest'anno hanno un po' toppato secondo me Però comunque torniamo su Adi La fa in due modi diversi nelle due annate Anche qui fa il vacuum nel 2021 che è una cosa difficilissima da fare il vacuum nel front last spread Qui si vede ancora di più il fatto che le sue gambe si siano ridimensionate molto, quasi la metà Veramente non so spiegarmelo, però comunque anche se sono più piccole sono comunque ottimamente separate Con le bravi strutture nel vasto laterale e nel vasto mediale Penso che se facessela poi come nel 2019 sarebbe veramente molto meglio nel 2021 Side chest, questa è una grossissima differenza Innanzitutto per il posing Perché l'avevo detto anche l'anno scorso che Adi Chupan secondo me faceva le side chest in maniera non buona Invece secondo me questa nel 2021 l'ha fatta in una maniera molto migliore Si piega un po' con le gambe Il pettorale devo dire che è molto più grosso nel 2021, è quasi il doppio più grande rispetto al 2019 Ripeto, fa la posa mia diversa quindi secondo me migliore In entrambe le annate ripeto la condizione è fantastica, buonissima separazione tra le gambe e anche tra i glutei E anche i tricipiti noto adesso che sono molto molto più grandi nel 2021 Side tricep purtroppo non esistono foto del side tricep di Adi Chupan Sia sul sito dell'MPC News Online che su Muscular Development Non ci sono foto del side tricep di Adi Chupan 2021 Quindi questo è uno screenshot di una foto che ho trovato su Instagram Non è il massimo però esiste solo questa su internet In entrambe le annate controlla perfettamente lo stomaco I suoi addominali sono incredibili Soprattutto gli obliqui come vedremo dopo nell'Epsant Ice Valutare questa posa è un po' complicato perché non esistono foto del 2021 purtroppo Back double bicep Secondo me Adi è molto sottovalutato nel back double bicep Veramente molto Secondo me è un back double bicep veramente bellissimo da vedere Comunque penso che nel 2021 sia più largo rispetto al 2019 Anche se nel 2019 è un po' angolato diversamente Condizione ripeto estrema e il doppio delle estremo in entrambe le annate Penso che anche sia un po' più spesso a livello di espressione muscolare Nel centro schiena e nei trapezzi rispetto al 2021 Soprattutto secondo me nei trapezzi Glutei penso siano più o meno gli stessi Forse penso che il 2021 sia leggermente migliore Anche i femorali quasi lo stessi Forse il 2019 è un po' più superiore Comunque secondo me questa posa per Adi è veramente buona Ha molto anche il rear respetto come vediamo dopo Perché ha un lower back e un centro schiena Che sono molto molto spessi muscolarmente Come dicevo il lower back e il centro schiena di Adi è veramente incredibile Purtroppo l'ho fatto il 2021 Non è al massimo per le luci Perché fa sembrare che abbia molta acqua nella schiena Ma non è così Sono le luci che fanno schifo purtroppo Anche qui una posa veramente buonissima per Adi Ripeto perché è larghissimo Ha un lower back con un centro schiena Dei trapezi che sono molto molto spessi Penso che qui grosse differenze non ce ne siano Se non per il fatto che i quadricipidi si vede che sono più piccoli Absent eyes Lo so che Adi la fa anche mostrando solo gli addominali Però non ho trovato foto di lui che mostrava solo gli addominali per il 2019 Quindi ho preferito usare tutte e due le foto che mostrava gli obliqui Penso che siano molto più spessi e grandi nel 2021 Come detto prima gli obliqui di Adi sono veramente bellissimi E' veramente molto bello Con un'ottima separazione dei buoni dettagli Merito ovviamente della condizione estrema che porta in gara E infine most muscular Penso che la condizione sia leggermente ma non di tanto Di pochissimo superiore nel 2021 Ma di nulla sono entrambe estrema Penso che il 2021 sia un po' migliore Anche se le luci facevano veramente schifo E era molto difficile dirlo Mezza action migliore sicuramente nel 2021 Lo tiene migliore Una migliore separazione Gli addominali Non so spiegarmi il fatto che le sue gambe Siano così ridimensionate nel 2021 Veramente non so Speri il gambero non so se abbia avuto un infortunio O se sia stata una sua scelta volontaria Onestamente non ne ho la più pallida idea Comunque Secondo me La migliore versione La migliore versione è nel 2021 Anche se ha delle gambe un po' più piccole Secondo me nel 2021 è la migliore Resta il fatto che secondo me In entrambe le annate Meritava di più Di quello che è arrivato in entrambe le annate Arrivato terzo E secondo me in entrambe le annate Doveva arrivare secondo A secondo posto Soprattutto nel 2021 Perché onestamente io lo ritengo Migliore di Brandon Ma questa cosa non la penso solo io Ma la pensano Veramente tantissime persone Quindi abbiamo visto Qual era la migliore versione di Adichupan In un palco del Misti Olimpia Nella categoria Open Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere secondo voi Qual è realmente la migliore versione di Adichupan Un palco del Misti Olimpia Nella categoria Open Se non siete iscritti Iscrivetevi Ci vediamo al prossimo video Allo guys